Io opto per il secchialopua, secondo me. Dal tipo di outfit. Scarpe. Da 10 a 30, dai, posso sparci. Non le conto, sinceramente. Da 10 a 30. Quali più? No, da 10. Io opto per il secchialopua, secondo me. Pochette arriva, rivaretta. Minibag. Minibag. Non l'abbino. Cioè, non per forza l'abbino. Dal tipo di outfit. Non so che si dovrebbe scegliere dalle scarpe. Scarpe. Oh, yes! Una borsettina con la catenella. Per lo studio, tipo shopping. E non mi ricordo il nome, però vabbè. Questa. Però mi è stata regalata. Wow! Perfetto. E non mi ricordo il nome, però vabbè. Grazie a tutti